Gli amici si vedono dal mattino Amici del mattino pavesi, tanti ricchi e colosi, come le gocciole, i biscotti con gocce di cioccolato finissimo per una colazione buona e nutriente Amici del mattino pavesi, più amica la colazione più attiva la giornata, pavesi per gente piena di vitalità Amici del mattino pavesi